I finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valencia questa mattina hanno eseguito un sequestro preventivo di un cantiere edile di alcune opere realizzate nella frazione marina del Comune di Nicotera. Il sequestro è stato disposto dalla GIP del Tribunale, il dottor Lorenzo Barracco, su richiesta del sostituto procuratore, la dottoressa Concettina Iannazzo, all'esito di alcune indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in relazione al corretto svolgimento della procedura di gara indetta dalla Comune di Nicotera per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento, recupero e riqualificazione del waterfront e della pineta della frazione marina. Le investigazioni hanno evidenziato come lavori eseguite non ancora ultimati nonostante fosse abbondantemente scaduto il termine ultimo per la consegna dell'opera finanziati dal contributo regionale del POR Calabria 2007-2013 per un importo di 1 milione di euro e aggiudicati per una cifra di 842 mila euro fossero difformi per qualità e quantità rispetto agli elaborati progettuali. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo nei confronti dei quattro indagati nella vicenda vanno dall'abuso d'ufficio al falso in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale, alla frode nelle pubbliche forniture, alla truffa e all'abusiva occupazione di spazio demaniare marittimo.